Andiamo avanti adesso con il nostro giornale, andiamo a Lucca dove c'è stata la visita del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che ha commentato anche un sondaggio pubblicato oggi secondo il quale il Governatore della Toscana sarebbe al 15,8% per la candidatura alla Segreteria del Partito Democratico. Alle prossime primarie del Partito Democratico chi voterebbe come segretario? Secondo un sondaggio pubblicato su scenaripolitici.com il 15,8% degli intervistati risponde Enrico Rossi ed il Governatore della Toscana parla di un risultato inaspettato, di un forte incoraggiamento ad andare avanti. Lo fa da Lucca, una delle tappe del suo tour iniziato qualche mese fa nel nostro territorio. Il Presidente della Regione Toscana ha visitato il nuovo Presidio ospedaliero del San Luca, poi si è incontrato con gli imprenditori del settore della carta, una delle realtà più storiche di questa terra definita da Rossi uno dei punti di forza della tenuta toscana durante la crisi. Vi propongo di chiudere, ha detto, lavorando insieme le questioni aperte. Altri temi trattati, quello della depurazione delle acque, per la quale occorrerà andare ad un nuovo accordo di programma. Bisogna riaggiornare il vecchio accordo di programma relativo alla vicenda della depurazione, lo stiamo facendo, abbiamo preso impegno a farlo entro l'anno. C'è una questione sullo smattimento del parpe che adesso va veramente definitivamente risolta e poi dobbiamo programmare anche un migliore utilizzo per quanto riguarda tutta la rete ferroviaria che è stata allestita e che può essere usata per il trasporto del materiale industriale. Rossi ha dato appuntamento ad operatori ed imprenditori fra circa un anno per verificare lo stato di attuazione delle decisioni prese.